I nomi dei Patris e Figli e Spiritus Sancti. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cose spiriti più ardenti, che tu mi ammetti a vivere nel Regno. Della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regine di questo Regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana Regina, a te mi affida finché guidi i miei passi nel Regno del Divino Volere. E stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccio la vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi. Con la Divina Volontà così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus entris tui Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 31, 25 settembre 1932. La Divina Volontà chiama la vita di Nostro Signore nell'anima, l'abbandono chiama le opere sue. Diritto che dà la Divina Volontà a chi vive in esse. Sono sempre nelle braccia del volere divino come una piccola bimba che vuole essere cullata nelle braccia della mamma per prendere il suo dolce sonno. Se la mamma non la culla, la povera vicina non si sente sicura, si opprime e piange ed implora le braccia della madre per letto e riposo ed allora si quieta quando ne ottiene l'intento. Tale sono io, sono la piccola bimba neonata appena e sento il gran bisogno per essere sicura delle braccia del Fiat per essere cullata e difesa. Ed essendo inesperta nel suo mare divino perché sono neonata appena sento il bisogno di essere guidata e di conoscere ciò che devo fare nella sua stessa volontà e siccome mi sentivo oppressa per le privazioni del mio dolce Gesù e per altri incidenti successimi il mio sommo bene Gesù tutto bota mi detto mia piccola neonata del mio volere vieni fra le mie braccia tu hai ragione che solo nelle mie braccia puoi essere sicura né vi sono pericoli nella mia volontà che più che mamma ti tiene stretta al suo seno ti alimenta con la sua luce e col suo amore non ci sono oppressioni né mestizia né timore queste sono robe fuori della mia volontà non dentro di essa dove non vi è altro che pace gioia attitudine continua c'è tanto da fare che l'anima non trova né tempo né luogo per opprimersi poi l'oppressione è mancanza di abbandono totale e nelle mie braccia l'abbandono produce il dolce sonno e nello stesso sonno sogna colui che lo ama colui che ama e che l'ama tanto che la tiene stretta al suo seno invece l'oppressione il timore produce la veglia e diventa tutt'occhio per guardare se stessa non colui che ama ed è tutt'occhio per essa tu devi sapere che il fare ed il vivere nella mia volontà chiama la mia vita a formarsi in te e l'abbandono totale in me chiama le mie opere e chi non vive abbandonata inceppa in essa la mia vita e le mie opere ed io mi sentirei male se non potessi svolgere ciò che voglio fare nella creatura perciò abbandonati totalmente in me ed io ci penserò a tutto dopo di ciò sto facendo il mio giro nella creazione per mettervi il mio ricambio di amore per tutto ciò che ha creato e conserva per solo e puro amore ed il mio amato Gesù ha soggiunto figlia mia la grammole del mondo attaccata alla grammole divina gira continuamente animata dal nostro modo incessante ci gira intorno per ridarci la gloria l'onore l'amore col quale la uscimmo fuori di noi sicché siamo in mezzo alle opere nostre che mentre ci girano ci decantano con voci segrete ed arcane il nostro essere supremo dove noi sentiamo nelle cose create la nostra vita sparsa in esse e sentiamo ridarci il palpio del nostro amore la profondità della nostra adorazione il corteggio della nostra gloria l'aureola della nostra fulgita bellezza la vita della nostra luce ora chi gira nelle opere nostre si unisce a darci tutto ciò che ci dà tutta la creazione la mia divina volontà le dà il luogo in tutte le cose create per fare che ciò che fanno loro faccia pure esse e succede che come gira così prende più amore più luce più conoscenza si abbellisce di più è un incanto il vederla che come gira così prende in sé la vita del suo creatore se la copia ed il mio fiat divino le dà il diritto di tenere il suo posto d'onore nelle opere sue chi vive nella nostra volontà è inseparabile da noi e dà la più grande alla più piccola opera da noi creata la sua forza creatrice ed unicità la unisce con tutto un incondisorubile perenne bene amici cominciamo anche oggi la meditazione di questo splendido brano molto importante e che trova diciamo il suo punto culminante negli insegnamenti di Gesù sull'abbandono che è una delle cose più belle credo che si possano vivere in questo mondo un anima abbandonata è veramente la regina diciamo soltanto della terra mi sarei tentato di dire del cielo e della terra ma diciamo solo della terra ma è veramente qualche cosa di di meraviglioso cosa significa abbandono abbandono significa consegnarsi completamente significa avete visto no? lasciarsi andare significa mettersi nelle mani di noi abbiamo il nostro grandissimo onnipotente eccelso meraviglioso sublime onnisciente immenso Dio immaginate se vivessimo completamente abbandonati in Lui il grande San Michele scacciando il diavolo dal dal cielo durante la battaglia primordiale si erse al grido di chi è come Dio ma è un grande grido chi è come Dio chi si può mettere a competere con l'altissimo chi può sperare di di prevalere sull'altissimo di saperne più di Lui di essere più forte di Lui il diavolo che pure insomma non è certamente un un qua 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 si dice dalle nostre parti è l'intelligente degli angeli quindi ha una grande intelligenza una grande potenza ma non può competere ma nemmeno proprio anni luce di lontananza con l'altissimo tanto è vero che ci sono testimoni che hanno visto adesso non ricordo la citazione precisa ma ricordo questa informazione santi mistici che quando Gesù si affaccia all'inferno tutti stanno prostrati tutti quanti i demoni stanno prostrati per forza perché loro non amano Gesù non fanno un'adorazione di amore come dovremmo farla noi fanno un'adorazione forzata nel senso che sono pressati dalla divina potenza di doverla per forza riconoscere con i diavoli questo il Signore lo fa non lo fanno con noi fino a quando siamo sulla terra ma attenzione che verrà un giorno che ogni ginocchio si piegherà dinanzi a Gesù e ne c'era in terra sotto terra volento o no lente quindi è meglio farlo adesso per amore volontariamente farlo come lo fanno i diavoli ma i diavoli non possono competere con il nostro Signore in molti oggi hanno paura dei diavoli o magari non proprio dei diavoli della sfortuna del del rovescio delle cose che non vanno bene pochissimi sono quelli che usano i mezzi perché paura di questi di quelle bestiacce zero assoluto abbandoniamoci nelle mani dell'altissima dopodiché venga pure il diavolo a provare a prenderci sia capace se siamo realmente abbandonati nelle braccia dell'altissima attenzione non come dice San Giovanni nelle sue lettere a parole o con la lingua ma poi fa chi nella verità no? andiamo con ordine prima di parlare dell'abbandono Gesù fa una bellissima qualche bellissima considerazione su altri aspetti connessi Luisa si sente tra le braccia del volere divino e lì si sente al sicuro Gesù gli dice ma brava brava lì non ci sono pericoli lì c'è un alimento che è un alimento di luce e di amore attenzione non ci sono oppressioni né mestizia né timore questo segniamocelo bene queste sono robe fuori della mia volontà non dentro di essa cosa ci sta dicendo Gesù si sente oppresso oppresso io oserei aggiungere anche un po' depresso tanto oppresso e depresso sono abbastanza imparentati tra di loro chi si sente mesto triste o timoroso le persone che ci hanno mille paure fondate o anche fondate Gesù sta dicendo queste sono robe fuori della mia volontà se tu vivi queste cose stai attento che non stai vivendo nella mia volontà perché nella mia volontà c'è pace gioia e attitudine continua che significa attitudine continua attitudine significa come dire santa operosità continua operosità che non è soltanto nel fare tante belle cose ma è nell'essere sempre aperti nei confronti dell'altore all'ascolto a comprendere quello che lui vuole restare istruiti a discernere sul bene sul male quindi c'è questa disposizione continua e a me mi è scappato un sorrisino quando ho letto questa frase c'è tanto da fare che l'anima non trova né tempo nel luogo per opprimersi verissimo quando uno si mette al servizio dell'altissimo e lo prende sul serio questo servizio non c'è tempo nel luogo per opprimersi perché il tempo non basta mai pure stamattina ho cominciato la meditazione per chi la sente in diretta con 12-13 minuti di ritardo io ci metto tutta la buona volontà possibile immaginabile mi dispiace molto far aspettare le persone è una cosa brutta credetemi se dipendesse da me non sarebbe così ma ci sono molte cose da fare e a volte qualche cosa prende più tempo del previsto e se in quel momento la divina volontà chiede altro purtroppo non si può non si può fare altro e poi i tempi scorrono e poi tocca rincorrere qualche volta un po' magari questa è un'operazione divertente sopramaturamente divertente perché se uno impiega più tempo del dovuto per fare una cosa poi si ritroverà che tante altre cose non c'è tempo di farle o meglio deve recuperarle e va bene d'accordo è una vita bella è una vita entusiasmante la cosa più brutta che è un'altra proprietà della volontà umana è chi dice che si annoia o che devo ammazzare il tempo quante volte si sentono queste espressioni devo passare il tempo o ammazzare il tempo addirittura un delitto ammazzare il tempo da confessione proprio il tempo si impiega con l'aiuto del Signore per tante cose belle Gesù insiste l'oppressione è mancanza e qui fa lo step con cui comincia poi a introdurre il tema dell'abbandono è mancanza di abbandono nelle mie braccia ma proviamo a pensare ma quanto si camperebbe bene abbandonati abbandonati non vuol dire che siamo come degli automi che non facciamo niente dalla mattina alla sera ogni tanto specifico perché sapete che ormai la mia esperienza di volontà umana mi ha insegnato tante cose che è meglio spendere una parola in più per precisare un concetto piuttosto che rischiare che poi si facciano interpretazioni completamente forvianti con l'aggravante ma questa non è la cosa più grave perché la cosa più grave è il monumento per l'aima che poi si va a dire che Don Leonardo ha detto così ma Don Leonardo non ha detto così tu hai capito così l'abbandono non è stare come delle statue come degli automi non fare niente dalla mattina alla sera e vivere questo atteggiamento completamente quietistico passivo questo non è l'abbandono non assolutamente niente a che vedere queste sono sciocchezze questo è una sorta di colpevole ozio materiale spirituale Dio non vuole che stiamo in ozio come quando Gesù spiega che cosa significa vivere di volontà divina comincia a pensare la mia volontà umana la devo la devo annientare sì ma devi capire bene in che senso perché nella volontà divina la volontà umana non è che sta come un automa ancora o come non si sa bene cosa la volontà umana è attivissima anzi è iperattiva anzi non è mai tanto iperattiva tanto quanto tanto quando vive nella divina volontà iperattiva perché il nostro signore ci dà sempre tante cose da da fare non troppe ma dovremmo avere il nostro signore è l'abbondanza è la magnificenza quindi e quindi dovunque ci si gira quando si ha a che fare con lui si ha sempre a che fare con con l'abbondanza abbandono e abbondanza si assomigliano un po' cioè l'abbondanza è anche un termine poco espressivo perché cioè Dio esagera proprio non è che è semplicemente un pochino abbondante no hai visto quelle mamme premurose che quando servono il piatto ai figli mettono un pochino abbondante no no il nostro signore certamente non per quanto riguarda i peccati di gola perché vuole che siamo temperanti ma volendo usare questo esempio il nostro signore non è che mette abbondante ti mette che a mangiatene fino a quando non ne vuoi più cioè che te strafoghi dalle nostre parti cioè lui fa sempre così è così è Dio e quindi molte persone che sono un po' depresse che non sanno che fare si devono rileggere un pochettino la parabola degli operai nella vigna no quell'ultimo ore dice ma che è stato a fare voi che è stato qua tutti i giorni oziosi ma nessuno ci ha preso a lavorare per giornate a giornate ma vieni ma vieni da me che ti faccio lavorare io quelli lavorano tanti in un'ora quanto hanno lavorato il resto degli operai tutta la giornata no che quando li paga allo stesso modo quelli si lamentano e dice oh ma stai a dar loro la stessa cosa che a noi e il nostro signore li ha fatti recuperare li ha fatto fare in un'ora quelli che altri li hanno fatto in dieci funziona così e l'abbandono produce dice Gesù il dolce sonno il dolce sonno anche qui non è immaginate un'anima che si sia sempre assonnata o addormentata non è certamente uno spettacolo di cielo ma è un sonno potremmo chiamarlo tra virgolette mistico e statico cioè è un sonno nel senso che amici guardate che la vita nella divina volontà quando uno comincia a viverci un po' a volte sembra un sogno ad occhi aperti perché è talmente bella che uno dice ma siamo sicuri che ma non è che ma come è possibile un sogno ad occhi aperti bellissima quella percezione di essere sempre avvolti seguiti amati voluti circondati di amore da parte di colui che tanto si ama no? siamo alla seconda parte della meditazione i giri la creazione la creazione la creazione la creazione dice la gran mole del mondo attaccata la gran mole gira continuamente animato dal nostro modo incessante ci gira intorno per darci la gloria l'onore l'amore con la gloria lo scimmo a cuore di noi gradualmente questo dobbiamo anzitutto dobbiamo certamente imparare a farlo perché gradualmente l'anima che vive nella divina volontà comincia a a farsi sensibile i giri diventano sempre meno cose come dire artificiali no? artificiali quindi per carità all'inizio non c'abbiamo altra possibilità per imparare a cominciarli a fare dobbiamo sforzarci un po' e quindi magari ti vengono ti vengono male ti vengono brutti non sai manco che fa non fa niente c'è uno step c'è una fase è sempre così perché anche nelle cose di Dio c'è un processo di crescita c'è il principiante che non sta certamente a livello di chi è già indicato in certe cose deve passare come regola nelle cose umane attraverso questo stadio come super laureati che se pensano che con l'università stanno tutti aspettando loro ma non funziona così devi farti anche tu caro dottore la dovuta gavetta perché non è che il mondo sta aspettare te c'è ne stanno tanti altri di laureati che sono come te e sono venuti prima di te questo vale in tutte le cose però a un certo punto anche nella divina volontà si registrano un pochino queste caratteristiche tipiche della vita a un certo punto sia così se non c'è una certa esperienza una certa scioltezza una certa familiarità una certa quasi con naturalità per cui non ti devi mettere a pensare cioè tu ti guardi un attimo intorno e il cuore vibra perché si sente avvolto in continuazione dai ti amo sparsi da Dio dovunque non ci serve di andare nei paradisi dove per grazia del Signore sono stato condotto qualche giorno fa che ci stanno delle tante zone in questo mondo tante aree in questo mondo fatte dal Signore per noi per i suoi figli che sono veramente dei piccoli paradisi sulla terra dove si sente evidentemente ancora di più il canto d'amore dell'Altissimo per le sue creature però anche dentro una stanza chiusa basta che io respiro mi faccio attento al respiro ma nell'area c'è il Tiamo di Dio nelle sostanze chimiche dell'area non in movimento di ispirazione di ispirazione cammino e nel contatto che c'è tra i nostri piedi e la terra se uno si fa attento provate c'è un Tiamo ce ne stanno tanti ce ne stanno tanti perché soltanto il moto del nostro organismo il battito del nostro cuore ricordiamo sempre ogni tanto faccio qualche ripasso perché fa bene a me fa bene a tutti quali sono i tre moti ininterrotti e continui della divina volontà dentro di noi dentro di noi faccio un attimo di silenzio così potete pensare che si ricordo oppure no quali sono queste cose dobbiamo parlare a memoria amici miei non ci vuole tanto il battito del cuore la circolazione del sangue e il respiro il cuore che batte il sangue che circola come ho accennato prima i movimenti di ispirazione ed espirazione sono moti della divina volontà in noi quindi fermarsi un attimo e farsi attenti alla bellezza del respirare fermarsi un attimo e mettersi la mano sul cuore sentirlo ogni tanto il nostro cuore che batte immaginare mentre batte che sta dicendo un po' di ti amo di ricambio al suo creatore e magari metterci di noi perché io credo che il nostro cuore di per sé lo faccia è bene che lo facciamo anche noi in maniera cosciente ogni tanto ovviamente no e attenzione più dice Gesù più si gira quindi più questo processo diventa reiterato continuo costante così prende più amore più luce di conoscenza si abbellisce di più non sono queste operazioni come dire più operazioni cina di giù che bella adesso faccio una un giretto anche un pochino forzato dice vabbè Luisa dice che ci stanno tutti stitiamo io non li vedo però vabbè facciamo questa cosa e poi finisce lì non lo finisce lì perché fatta quella cosa tu puoi anche non accordarti come noi ce ne accordiamo evidentemente spesso e volentieri sul momento sull'atto ma quello che è entrato dentro di te ed è entrato dentro di te è amore è luce è conoscenza è abbellimento le anime dei figli del divino volete sono tutte bellissime anche se da un punto di vista esteriore estetico possano avere qualche difetto sono tutte bellissime la bellezza delle anime che vivono nel divino volere traspare dagli occhi anzitutto ma non solo dagli occhi poi dal tratto dai modi da tutta quanto una serie di cose che gradualmente in maniera in parte naturale in parte volontaria perché l'anima piano piano crescendo come dire avverte l'importanza e la necessità anche come dire di trovare un'unità un'unificazione di di c'è e quindi certe cose a cui prima neanche magari si faceva caso da un punto di vista per esempio esteriore comportamenti atteggiamenti stili modi di fare modi di essere modi di porsi modi di relazionarsi modi di vestirsi tutto converge gradualmente verso questa divinizazione reale della persona diciamo sempre come erano i modi di Gesù come erano i modi di Maria come era lo stile di Gesù come era lo stile di Maria come era il tratto di Gesù cioè chi vuole approfondire queste cose basta che si legge gli scritti di Maria tolta si rimane incantati e perché erano così perché erano completamente fusi con la divina volontà capite non sentiamoci in colpa cioè se certe cose ancora non sono nate dentro di noi sapeste quanta gente continua a scrivere mail questo lo posso fare questo non lo posso fare io sono sempre molto restio anche quando si tratta perché mano a mano che la persona matura ci dovrebbe arrivare certo già che uno ti fa una mail e ti dice ti pone un problema ma sta cosa qua ma la posso fare vivendo una mia volontà ecco io ogni tanto gli rispondo dico bene rileggi quello che hai scritto perché ti sei posto questa domanda perché già che ti sei posto questa domanda che significa significa che la tua coscienza ti sta dando un input ti sta dando un qualcosa che ti avverte che forse quella cosa non va io ho sempre un pochino di timore che le anime cosa che Dio non vuole si risolvano a fare certe cose non tanto perché comprendono che quella è la divina volontà e quando ci sta di mezzo la divina volontà se abbiamo capito qualcosa se ci sta di mezzo la divina volontà a me non mi importa niente di nessuno se una cosa Dio la vuole io quella cosa la faccio se qualcuno storce la bocca o se la prende pure o mi insulta o mi critica amico mio amica mia ti voglio più bene di prima io questa cosa la faccio lo stesso se ho interiorizzato non perché l'ha detto tizio o caio cioè il testimone x o y l'amico dello sposo x o y in carità l'amico dello sposo sarà pure l'amico dello sposo ma non è lo sposo quindi io credo di aver imparato e credo al momento che sia la cosa sempre migliore da fare più che dire il da farsi portare le anime aiutare le anime a comprendere quello che Dio sta loro chiedendo perché poi volontariamente liberamente dicano fiat e detto quel fiat quello non glielo toglie più nessuno perché è un fiat detto non alla creatura per quanto come dire ritenuta santa o che ne so o stimabile o autorevole no noi non agiamo per complicere nessuna creatura e non obbediamo nemmeno a nessuna creatura attenzione alla famosa obbedienza noi non obbediamo a nessuna creatura a nessuna creatura noi obbediamo sempre solo a Dio questo non significa obbedire a Dio dire anche obbedire a coloro a cui Dio ha dato l'autorità per poter comandare certamente ma quella non è un'autorità illimitata l'autorità per poter comandare secondo la sua volontà ecco non l'autorità per poter comandare perché si facciano come dire le pazzie perché se qualche autorità si prende come dire l'arbitrio di andare a dare ordini palesemente oggettivamente no? contrario alla volontà di Dio a me proprio da un'orecchia mi entra e da quell'altra mi esce quello che ha detto quando si tratta di cose oggettivamente attenzione ai termini che uso è contrario alla volontà di Dio non è una cosa che non mi va non mi piace o non sono d'accordo per motivazioni personali quello non c'entra niente quello ecco allora chiediamo in questa al termine di questa meditazione di poter vivere questo abbandono del dolce sonno gettate in lui tutte le vostre preoccupazioni diceva San Pietro perché egli ha cura di voi questi sono i prodromi evangelici di questa cosa o qua Gesù dice non datevi pensiero per la vostra vita cosa mangerete cosa berrete ma di che cosa vi dovete preoccuparci penso io in tante catechesi degli anni passati ho detto e ripeto lo ridirei proprio fino all'ultimo istante una delle grandi piaghe del nostro mondo contemporaneo la contraccezione la contraccezione certamente è un peccato grave contro Dio per tante motivazioni ma da un punto di vista spirituale dietro la contraccezione c'è sempre una mancanza d'abbandono perché il discorso è molto semplice chi decide il numero dei figli di una coppia chi lo decide lo decidi tu lo lasci decidere all'altissimo se poi lo decide all'altissimo mi manda 15 figli e poi come faccio allora quello che io cerco di far capire alle persone dico senti di questo ragionamento che hai fatto cosa c'è dietro questo ragionamento mi manda 15 figli e poi ma tu pensi che il nostro signore non sa non sa tu non sai ma lui sa quanti figli puoi crescere o quanti figli puoi avere l'onore di educare se voi siete una coppia talmente santa che il nostro signore dice ma non voglio 15 figli almeno 15 uomini qua escono fuori dritti con tutto quello che gira intorno e tu ne vuoi soltanto due va bene questa cosa qui ma cosa c'è dietro chi pensa chi decide ma può e se il nostro signore si dà 15 figli e poi come faccio ma come fai ma se ti danno cose di questo genere ti darà tutte le grazie per farle sarà una benedizione anche se ti sembra una cosa difficile e gravosa e ma lavora una persona solo non ci abbiamo i soldi o stipendi questi sono discorsi ragionamenti da uomini umanamente comprensibilissimi ma noi non possiamo stare su questi versanti è chiaro poi che la chiesa che deve fare stando a che fare con le volontà umane con non tutti che hanno intrapreso un percorso delle santità dice vabbè se proprio vuoi pensare in questo modo ma questo è il minimo etico quindi vuoi proprio fare attenzione però questi sono i metodi leciti ma certo questa non è la cosa ideale questa qui no io personalmente se dovessi sentire una persona vuole vivere nella divina volontà e c'ha paura di avere il terzo figlio io non sono nessuno certamente per sostituirmi all'altissimo e per dire una cosa di questo genere però mi sembra mi suona come una cosa veramente strana cioè se a Dio dobbiamo dire e dobbiamo dire se vogliamo dire in questo mondo la nostra preghiera guarda qualunque cosa a me non importa niente basta che si faccia quello che tu vuoi io smonto tutto e rimonto tutto da capo figuriamoci una cosa di questo genere l'abbandono è il punto fondamentale della vita spirituale era inevitabile che nella divina volontà il Signore facesse delle bellissime lezioni come quella di oggi su questo punto grazie a tutti grazie a tutti grazie anche per quello che ci ha dato oggi Signore Gesù desideriamo tutti di vivere abbandonati in te e dimenticare anche solo il significato di ciò che è la paura perché abbandonati tra le tue braccia non si può e non si deve avere paura di niente di nessuno temere proprio niente di nessuno nella consapevolezza che è impossibile che a chi è abbandonato tra le tue braccia accada accada qualche cosa per quanto apparentemente dolorosa e sgradevole possa essere che non sia date disposta e che non concorra alla sua santificazione alla tua maggior gloria e a tante altre cose che noi ignoriamo il segreto per non avere più nessuna paura e la paura penso che dovremmo aver imparato anche in questi ultimi tempi è una molla veramente devastante dell'animo umano il segreto per non avere più paura è abbandonarsi nelle mani di colui che infinitamente ci ama e che è il più grande di tutti è il più forte di tutti il più santo di tutti il più potente di tutti e con lui in braccio a lui non ce n'è proprio per nessuno così sia Signore Gesù per me e per tutti nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Fiat Ave Maria